Dallo sciopero fuori dal campus scolastico divenuto sempre più vulnerabile ai facili allagamenti, la mattinata di protesta degli studenti del liceo Mamiani si è spostata sotto la sede della provincia di Pesero Orbino, ente deputato alla manutenzione ordinaria delle scuole superiori. Un sitin civile con i rappresentanti d'istituto ricevuti dal presidente Paolini e dal direttore Domenicucci in un confronto esplicativo animato dalle migliori intenzioni a risolvere la situazione. Non abbiamo soldi per l'ordinaria amministrazione, io quello che ho detto ai ragazzi, anche quest'anno lo Stato ci ha tagliato 750 mila euro, poi ci taglierà 750 mila euro nel 2025 e 350 mila nel 2026. Quando lo Stato, la tesoreria dello Stato ha riconosciuto che le province, tutte le province italiane, i costi che hanno montano a un miliardo di euro per l'ordinaria manutenzione, per la viabilità, per tutto. Purtroppo non ci sono, non ci sono soldi e ci sono soldi solo per interventi straordinari. Il campus è una situazione critica che da molti anni, e da molti anni e adesso noi faremo degli interventi, ma non degli interventi tampone, ma con i pochi soldi che abbiamo faremo delle soluzioni definitive in alcuni settori, come può essere il tetti, come può essere le imposte, eccetera, eccetera. Il campus purtroppo era rimasto fuori dalle risorse del PNRR e oggi è diventata, l'ho già detto anche ai ragazzi, la priorità assoluta per l'amministrazione provinciale in termini di edilizia scolastica. Quindi io ho già detto anche ai miei dirigenti dell'edilizia che l'obiettivo primario, anche per i prossimi anni, è quello di andare a intervenire sul campus scolastico di Pesaro, non con interventi tampone, ma con interventi strutturali definitivi che eliminino soprattutto questo problema delle infiltrazioni d'acqua. Poi adesso noi dovremmo riscuotere delle risorse che derivano da alcune alienazioni e circa un milione di euro, abbiamo già deciso insieme anche con l'amministrazione e con il Presidente, le destineremo a interventi sul campo scolastico. Non è una cifra enorme, però ci permetterà di fare dei primi interventi. Tanto che io ho chiesto proprio anche questa mattina ai dirigenti dell'edilizia di elaborare subito dei progetti relativi alle situazioni di maggiore difficoltà che danno più problemi da un punto di vista proprio delle infiltrazioni. Quindi cercheremo di intervenire intanto con queste risorse qui per fare dei primi interventi definitivi, non tampone, perché poi l'intervento tampone dopo un po' riporta il problema in evidenza e non lo risolvi mai. Poi andremo alla ricerca, una volta che avrò in mano questi progetti anche di risorse, andremo a contattare il Ministero, la Regione, vediamo, cerchiamo di muoverci per intercettare ulteriori risorse. Altra cosa, sta scadendo il contratto di Global Service. Noi abbiamo una società che ci gestisce la manutenzione degli edifici, è il contratto Calore. Sono in corso delle proposte di project financing. Io anche alle ditte che sono venute qui, che ci presenteranno i progetti, ho detto che la priorità assoluta, perché loro faranno anche, proporanno degli investimenti, è comunque il campo scolastico di Pesaro. Quindi c'è già un inizio, una strategia, diciamo, per andare nella direzione di cercare di risolvere in maniera definitiva i problemi del campo scolastico di Pesaro. Io, quello che ho detto, che la protesta dovrebbe essere rivolta, più che la provincia, ma è giusto che ci sia nei confronti della provincia, perché è il primo interlocutore di un meccanismo che poi arriva fino a Roma, ma la protesta dovrebbe essere fatta. Io andrei con loro, anche con loro, a protestare direttamente a Roma sotto gli uffici del Ministero della Pubblica Istruzione.